Prima udienza questa mattina al Tribunale di Pesaro per il processo che vede imputato il leader del movimento Ioapro Umberto Carriera, che era stato querelato da Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord per alcune dichiarazioni rilasciate dal ristoratore Ribelle, che ora deve rispondere di diffamazione. Il processo però è stato rinviato. Non è andata bene perché Varotti non c'è. Varotti mi ha querelato per diffamazione ma non si presenta in tribunale. L'udienza quindi è stata rinviata al 6 dicembre. In tribunale non farò altro che confermare ciò che scrivo sui social, ciò che dico in tv, quello che è il mio pensiero, ma anche il pensiero di milioni di italiani, ovvero che le associazioni di categoria sono enti assolutamente inutili e andrebbero chiuse. Sono addirittura dannose per quanto riguarda le attività che dovrebbero tutelare, dovrebbero aiutare le partite IVA, i piccoli commercianti, gli artigiani, ma da due anni a questa parte non hanno assolutamente fatto. Nel dettaglio, il commercio Marche Nord da due anni sta facendo una battaglia mediatica sui social, sui giornali contro il sottoscritto, semplicemente perché non ho abbassato la testa, non ho abbassato le serrani dei miei locali e ho condotto da solo massima migliaia di ristoratori in tutta Italia una battaglia contro il lockdown, contro il green pass e contro le tante restrizioni che ci sono state. Varotti dovrebbe vergognarsi perché mi porta qui a perdere tempo, ripeto, per un mio pensiero, che ribadisco anche qui davanti ai vostri microfoni, la confcommercio, le situazioni di categoria andrebbero assolutamente chiuse o quantomeno riviste. Gli italiani sono stanchi, tutto ciò che sta accadendo, i piccoli imprenditori, le partite IVA, gli artigiani, i ristoratori non hanno mai avuto alcuna tutela. Varotti e la sua bella compagnia hanno detto sì a tutto, hanno detto sì alle chiusure, hanno detto sì ai ristoratori al 3% che hanno messo in ginocchio tutta l'Italia, le Marche, la città di Pesaro. Adesso ci ritroviamo con bollette triplicate e quadruplicate. E tutto quello che sa fare Varotti sono comunicati stampa, oppure le inaugurazioni con i tagli del nastro. Oggi doveva venire qui perché mi ha portato ad un processo, ma lui non c'è. Forse se ne vergogna. Il direttore Amerigo Varotti sui social ha detto invece la sua verità. La persona imputata che ha ricevuto la citazione e quindi l'obbligo di comparire era il Carriera, ha scritto Varotti commentando un post pubblicato nella pagina della sua vice. Il sottoscritto, c'è scritto nel decreto di citazione, aveva il diritto non l'obbligo di intervenire all'udienza trattandosi solo di preliminari di carattere legale. Per questo c'era il nostro legale, non quello dell'imputato. È una sciocchezza scrivere che l'udienza è stata rinviata perché il querelante non era presente.